Una proposta di legge voto del Movimento 5 Stelle si pone l'obiettivo di limitare e in alcuni casi di vietare l'uso di smartphone e tablet a bambini e adolescenti per contrastare i fenomeni sempre più diffusi di disturbi mentali e comportamentali per l'eccessivo utilizzo degli apparecchi elettronici. Primo firmatario del disegno di legge è il deputato regionale Carlo Gilistro di professione pediatra. Il divieto è per i bambini sotto i tre anni, per gli altri il testo limita un certo numero di ore l'utilizzo degli apparati elettronici. Il testo, presentato in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, sarà assegnato alla commissione parlamentare competente per l'esame. Questa proposta, dichiarato Gilistro, serve a normare un fenomeno che colpisce le famiglie, la scuola e la sanità. Il prezzo che stiamo pagando è davvero salato, quasi la totalità dei ragazzi che va a scuola ha un disagio epocale di tipo psicologico che sfocia in disturbi come attacchi di panico, di ansia e di angoscia. Lo Stato di New York sta denunciando i grandi social network in Inghilterra e vietato l'uso nelle scuole. Anche in Cina c'è una legge che ne vieta l'utilizzo sotto gli otto anni. Parecchi paesi in Europa, ha aggiunto Gilistro, stanno correndo ai ripari. Da pediatra in trincea, in questi ultimi anni sto assistendo a un'escalation di disturbi mentali che colpiscono la fascia di età dai 5 ai 18 anni. Di recente una mia paziente di 9 anni ha avuto un attacco isterico, l'abbiamo dovuta sedare, stava a sei ore al telefono, non vuole più tornare a scuola, non accetta la visita psicoterapeuta, la madre è disperata, la bimba perderà l'anno, non accetta nulla, ha concluso Gilistro. Il DDL voto è firmato da tutti i parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle.